All'interno della scatola Titan troviamo la targa con l'apposito supporto e le viti, le quattro sonde contenute nell'apposita base di ricarica in cui troviamo anche il pannello magnetico per l'attivazione delle stesse, il ricevitore per le sonde e la prolunga per il ricevitore, il cavo per la ricarica delle sonde che può avvenire tramite computer o tramite corrente, la chiavetto USB Titan all'interno della quale abbiamo il software Titan, il manuale e la Quick Start Guide, una busta di elettrodi pregellati contenente 50 elettrodi.